... Senza un buon giornalismo in generale, non solo d'inchiesta, senza un buon giornalismo con la G maiuscola la società ha qualcosa sicuramente meno, non ha qualcosa in più. Il problema attuale è la diffusione della comunicazione, ce n'è troppa ed è difficile discernere cose serie da cose meno serie, l'approfondimento dalla superficialità della notizia, la notizia che fa chiaramente richiamo da quella che non lo fa, però forse è un po' più seria, questo è il tema, per quello è una domanda difficile, dare una risposta a una domanda del genere lo sento molto difficile ed è sempre più difficile, più passano gli anni ed è sempre più difficile. Quando ho iniziato io ho iniziato 12-13 anni fa, era il 2006, io sono entrato come stagista lì, ho fatto la mia gavetta come non si fa più. Nel 2006 c'era secondo me un'attenzione per questi temi, erano anche gli anni di Santoro, cacciato dalla Rai, rientrato in Rai in quel periodo, che oggi non ci sono più, non c'è più l'appuntamento davanti alla TV per vedere quel tipo di programma lì, c'è sicuramente meno, è una lotta. Nel corso dei dieci anni sono aumentati moltissimo i programmi di informazione, non d'inchiesta chiaramente, no? Parliamo di talk, ma guarda anche i talk, prendi Ballarò, come è sviluppato Ballarò, prendi Piazza Pulita, come è sviluppato Piazza Pulita, completamente diverso da quello che è stato un tempo, no? Nell'arco di un'ora cambiano 4 ospiti, 5 ospiti, nell'arco di una puntata cambiano 20 ospiti, cioè non esisteva una roba del genere, non c'è più l'attenzione di un tempo, questo è il dramma. La grande criticità la vedo lì, non c'è più l'attenzione che c'era un tempo, i social hanno fatto la differenza. L'aspettacolarizzazione della notizia è insida secondo me nel sistema. Io faccio televisione e la televisione è spettacolo. Adesso abbiamo allestito, no? Siamo qui su un divano, abbiamo messo due telecamere, ci stiamo divertendo anche noi, no? Parliamo di cose serie, assolutamente serie, però come le stiamo raccontando? Stiamo tentando di fare una cosa che abbia un senso, che sia piacevole da vedere, no? Che abbia una sua attrazione, no? Non stiamo di fronte a un muro nero, tristi e messi rigidi, no? Abbiamo un... questo è il senso della spettacolarizzazione. La spettacolarizzazione della notizia, di tutto quello che è poi informativo, ha un limite nell'informare seriamente. Cioè io posso rendere un prodotto più semplice e attrattivo, ma per far passare un messaggio importante. Il contrario non deve accadere, cioè non è che posso ridicolizzare una roba, una notizia, solo per aumentare il pubblico, senza dare poi l'informazione al pubblico. È chiaro che quell'approfondimento fatto personalmente dagli attivisti locali, da persone che tutti i giorni fanno la loro piccola grande lotta sul territorio, per non vederlo devastato, per mille buoni motivi che sono tutti molto personali in alcuni casi e non solo, no? Sono comunitari, però sono territoriali, sono lì. Cioè io vivo a Roma, me ne frega della pedemontana, no? Da cittadino. Come chi vive sulla pedemontana, gliene frega che a Roma c'è l'immondizia per strada tutti i santi giorni. Questo è un po' il senso. Loro sono fondamentali, sono delle colonne, secondo me, di buon senso civico, che se non ci fossero bisognerebbe inventarle. Senza sarebbe veramente un problema. Sono gli ultimi che ancora dicono no, che scendono in piazza, che manifestano. E anche in questo contesto non è gente di destra, di sinistra, è gente. È gente di tutti i colori, è quello che a me tocca particolarmente, no? Vedere persone che mai sarebbero scese per altre cose, ma scendono quando gli toccano il territorio, perché non vogliono la devastazione del territorio. È impressionante questa cosa. Raccontarlo, raccontarlo, continuare a raccontare. È l'unico modo, non ci sono alternative. Bisogna essere autorevoli, non sbagliare mai. Quando si sbaglia si chiede scusa, si fa pubblica ammenda. E bisogna essere sempre e solo autorevoli. È l'unica cosa che divide il marcio dal non marcio è l'autorevolezza, no? Probabilmente fai riferimento a tutta una serie di siti incredibili. Cioè uno va su internet e diventa il grande complottista, no? Quanti lo fanno? Vanno lì, smanettano. E a un certo punto si ritrovano, ah, fanno collegamenti fantasmagorici. Non è così. Cioè se io facessi un collegamento del genere andrei, non dico in galera, ma pagherei multe salatissime a chi poi mi querela, no? Quindi è un po' più complesso mettere insieme poi delle storie che abbiano un senso e che non dicano cazzate. Questo è il... Però tutto ha al suo senso, che è questo. Grazie. 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 Grazie.